Ad Arezzo proseguono le celebrazioni dedicate a Guglielmo Marconi ai 100 anni di radiofonia e ai 70 della TV con il MUMEC in prima fila. Andiamo all'Accademia Petrarca e domani sera alle 17 facciamo proprio questa apertura della nuova manifestazione retina che vede un'altra mostra fatta apposta per Marconi con tutti i pezzi originali presi dai nostri magazzini senza toccare tutto quello che è qui nel museo. E inoltre la presentazione con un convegno che vede la presenza anche di personaggi sia dell'Accademia ovviamente che saranno gli ospiti nostri sia io che farò una mia relazione scientifica e tecnica e anche un po' storica diciamo così di Guglielmo Marconi e poi ci sarà il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici che verrà qui ad Arezzo apposta per un saluto istituzionale. Per voi sarà un fine settimana impegnativo, il 18 invece c'è la Notte dei Musei? Il 18 sarà l'International Day of Museum e la Notte dei Musei quindi sicuramente un fine settimana impegnativo per noi del MUMEC a cui abbiamo aderito però con gioia quindi faremo in particolare in tutta la giornata e soprattutto nella sera della Notte dei Musei in cui tutti i musei d'Europa che aderiscono hanno ingresso ad un euro e saremo aperti dalle 8 e mezzo alle 10 e mezzo in serale e notturna con una proiezione particolare di filmati storici della RAI.